TikTok ha appena comunicato che nelle prossime settimane il fondo per i creator non sarà più disponibile in Italia e sto vedendo tanti video di influencer e creator che sono disperati perché non potranno più monetizzare i propri contenuti. Calma ragazzi, non è proprio così e al contrario nei prossimi mesi potrete guadagnare ancora di più da questa piattaforma. Vi spiego, TikTok è una piattaforma in forte crescita e ha bisogno di attrarre sempre più creator che producano contenuti di qualità per gli utenti e altri brand che investono in pubblicità sulla piattaforma. Quindi ha deciso di chiudere il fondo creator soltanto perché sta per lanciare al suo posto un nuovo strumento già attivo in altri paesi che si chiama Creativity Program Beta e che vi consentirà di monetizzare molto più di prima. TikTok dichiara addirittura 20 volte più del creator fund. Il nuovo Creativity Program Beta nasce con l'obiettivo di trattenere gli utenti ancora più a lungo su TikTok e pertanto premia i video più lunghi, inclusi quelli in orizzontale. Oggi infatti gli utenti passano il 50% del loro tempo a guardare contenuti più lunghi di un minuto, generando più interazioni con quei video e più follower per il creator. Ecco come funziona. Questo programma offre guadagni basati sulle visualizzazioni qualificate e sull'RPM, che è un parametro che indica il guadagno medio ogni mille visualizzazioni qualificate. L'RPM può variare in base a diversi fattori, come l'engagement del video, l'autenticità dei contenuti, l'argomento di cui si parla, l'area geografica in cui quel video viene visto e il rispetto delle regole di TikTok. Potranno accedere soltanto gli utenti che hanno almeno 18 anni, un minimo di 10.000 follower e almeno 100.000 visualizzazioni dei video negli ultimi 30 giorni. In più, la monetizzazione sarà attiva soltanto sui video originali e di alta qualità, quindi non contenuti presi dalla TV o da YouTube. Dovranno essere più lunghi di un minuto e avere almeno mille visualizzazioni. Sono esclusi caroselli con foto, duetti, stitch, video promozionali o sponsorizzati. Quindi datevi da fare per inventare video originali, più lunghi e con contenuti che siano utili, divertenti e di qualità per i vostri follower.